Lavinia è una bambina agropolese di 11 anni ed è una delle tante persone a cui sta a cuore il cambiamento climatico, o più in generale, il nostro pianeta. E sapendo dell'arrivo del premier Conte nel Cilento, non si è lasciata sfuggire l'occasione di scrivere una lettera sull'ambiente diretta al primo ministro. Ha affidato la lettera allo zio che, dopo il convegno al Deberardinis di Vallo della Lucania, l'ha consegnata a Conte, strappandogli anche la promessa di una risposta. E la risposta del premier non ha tardato ad arrivare. Infatti, con un post su Facebook, il primo ministro ha risposto alla piccola Lavinia, che nella lettera, dopo essersi presentata brevemente, ha sottolineato di essere contro la plastica e ha suggerito al premier di installare nelle città italiane degli erogatori di acqua potabile per ridurre il consumo di acqua imbottigliata. Poi, la piccola si è scusata per non essere stata presente al convegno di Vallo e conclude mostrando il suo piacere nell'aver potuto parlare con il premier Conte, con l'auspicio che ci sia un'altra occasione per incontrarsi di persona. Cara Lavinia, grazie per la lettera che mi hai scritto, che l'altra sera tuo zio mi ha consegnato dopo l'incontro a teatro a Vallo della Lucania. Avevo promesso che ti avrei risposto e lo faccio con piacere. Anzi, sappi che anche a me farebbe molto piacere incontrarti e conoscerti di persona. Potremmo farlo la prossima volta che verrò ad Agropoli. La tua sensibilità per la tutela dell'ambiente è lodevole. Se tutti gli abitanti del pianeta avessero la tua stessa premura, potremmo compiere decisivi passi in avanti per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere ben più efficacemente l'ambiente e la biodiversità. Posso rassicurarti che anche io ho molto a cuore questi obiettivi e con il governo ci stiamo impegnando molto seriamente, con varie misure per realizzarli. Quando ci incontreremo, te ne parlerò in maniera approfondita e così tu mi illustrerai in dettaglio la tua proposta. Ti mando un abbraccio affettuoso, Giuseppe. Queste sono le belle parole di Conte per la bambina, il quale ha sottolineato che il governo si sta impegnando seriamente per tutelare l'ambiente e inoltre anche dando appuntamento alla vigna per la sua prossima visita ad Agropoli per parlare di persona delle sue proposte per proteggere il pianeta Terra.